gaming, 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 gaming cos'è? tocca un brutto posto, pieno di mostri perché queste cose si sentono troppo alte e invece quando parli normalmente si sente troppo basso? ma dove sei? che cazzo sei? fa merda per ritornare a casa no basta che guardi le coordinate non me li ricordo fratme ma non c'è bisogno che te li ricordi basta che te li segni ecco cosa? ma io adesso sono sul letto non ho intenzione di alzarmi per... guardi lo screenshot al cellulare quando siamo alla base ma non lo vedrei comunque che casino non c'è come non lo vedresti comunque? guardi un attimo sulle gallerie e vedi lo screenshot ah ecco adesso so dove sono vieni tu hai voluto farmi giocare ti sei scelto da solo la tortura ci sei morto ma come si farà mai a uccidere gli endermen? non riesco proprio ah devo arrivare lì in cima dove c'è quel buco ok si? poi? giorgio basta a fare il giorgio 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 riccardo come mai giorgio? come mai giorgio? curiosità la skin del parere che si chiama giorgio è questa ma è un uomo di colore si voglio comprare questo account io lo pago il doppio di un account normale di minecraft guardate l'account del negro porco nico mi sapevo comeoste che è un po giorgio è un po più più sugo quello che si ha lasciato grug grug è tristi però reagisce Grug, bella giornata fuori. Grug esce. Grug vede donna. Grug triste. Grug, giornata rovinata. Beh, tu con cosa tiri lo scarico? Ci infecchi la mano dentro e la butti giù da solo? Sarà come si fa, scusa. Eh, devi mangiarla, devi mangiarla. Bello, ma posso fare una domanda? Perché? No. Le impostazioni di default di Minecraft fanno schifo, fanno schifo le impostazioni di default di Minecraft. Adesso devo mettere il FOV a Quake Pro. Non capisci. Abbiamo una caverna che va direttamente al centro della terra. Non capisci. Io... gaming. Gaming. Stai ancora scavando pezzi di terra. Gaming. Questo mi sembra accettabile. È il momento. Gaming. Ma non capisci cosa stai costruendo. Gaming. Io conoscevo Notch da piccolo. Lui era sempre un po' strano, no? Era molto simpatico ma non sapeva disegnare i cerchi. E allora gli ho detto, hai provato quei quadrati? E lui ha spor... Sappi che io sono lì. Io sono lì. Corri, 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 corri. Devo stare veloce, devo fare veloce, devo fare veloce, non mi resta molto tempo. Loro mi stanno cercando. Riccardo, loro mi stanno cercando. Cosa vuoi? Riccardo, cosa stai facendo? Sai cosa devi fare tu? Devi stare zitto. Devi stare zitto e basta. Devi stare zitto. Devi stare così zitto. Devi stare così zitto che riuscirò a sentire, riuscirò a sentire le voci della mia testa. Deve essere ok. Deve essere la soluzione. Deve essere questa. Deve essere questa. Se fallisce... Non c'è... Se fallisce questo, fallisce tutto. Più forte devi, più forte. Ah, guarda, io non saprei dove sarei adesso senza di te Riccardo. Ti riservirò un posto nella grande stanza. Nella grande stanza del signore. Scusami. Eh, scusami. No, davvero Riccardo, scusami, chiedo scusa, ma... Ma che... Scusami, davvero scusami. Ma scusami. No, è che... Scusa. Scusami Riccardo, scusami. Trego, scusami Riccardo. Non volevo farlo. Sai che hai finito la torta. No, no, no. Non l'ho finita. Però ho finito la mia pazienza, signorino. Stai zitto. Gaming. Non mi interessa della tua torta. In questo mondo ci sono schiavi e servitori. Tu chi vuoi essere? Vuoi essere il cazzo o vuoi essere chi lo succhia? Eh. Riccardo, siamo schiavi dormenti del destino. Non è la nostra potenza che dice chi siamo, ma sono le nostre scelte, Riccardo. Sono le nostre scelte che determinano chi siamo. Capito? No. È corretto. Gaming. Che cazzo è questo? Che cazzo è questo? Nessun non mi può contenere, io sono Dio. Osserva il caos che tu hai creato. Oh signore, io ho cercato di fare quello che tu mi hai detto. Ma ahimè, questo mondo è troppo corrotto. Vieni a ripulire questa terra. Non è un grande senso.